Al di là che a me mi sembra che stasera si è perso una grande occasione per vincere contro l'Atalanta perché secondo me la Fiorentina ha stradominato questo match fatemi dire comunque ragazzi che siamo al 14esimo risultato utile consecutivo io stasera ci vedo il bicchiere mezzo pieno peccato perché vincendo avremo agguantato il settimo posto ma va bene così perché non si perde ora ovviamente grandi applausi per questa squadra ragazzi che sta giocando ogni tre giorni che va avanti e indietro in Europa ogni settimana bravi ragazzi, orgogliosi di voi abbiamo messo sotto l'Atalanta con un calcio di rigore che ci è voluto mezz'ora per dare un calcio di rigore che era netto perché era netto ragazzi cioè se hai visto lo toccava con il braccio addirittura con il pugno quindi era netto al di là di questo io sono contento di questi ragazzi bravi, bravi, bravi e sono contento per Cabral che continua a segnare si è preso un grande rischio una grande responsabilità di battere quel calcio di rigore e non lasciarlo battere a Nico Gonzalez poi lasciam perdere che poi Biraghi ragazzi appena è entrato se la butta un porta e poi Jack Buonaventura con il colpo di testa è arrivato Sportiello e quando giocava con noi non le prendeva nemmeno i tiri centrali prendeva invece andava a fare due miracoli stasera a Sportiello detto questo ragazzi forza Viola vi lascio qua sotto il link in descrizione della community più bella che c'è quella di SpaceViola dove vi faccio parte anch'io Andrea Marino, MisterViola se vi va ragazzi come sempre iscrivetevi al mio canale qua su Youtube e Instagram e Facebook ve li lascio qua sotto 1-1 a Malè dove praticamente l'unica occasione ha avuto l'Atalanta nel primo tempo l'ha sfruttata purtroppo noi abbiamo avuto delle defaianze questa sera in difesa anche all'ultimo minuto dove onestamente a un certo punto volevo tirare il telecomando verso la televisione perché ci sono delle cose a un certo punto che non devi sbagliare però a un certo punto ragazzi ho pensato veramente di vincerla e avremmo meritato di vincerla perché ho visto una grande una grande ma una grande Fiorentina contro comunque un'Atalanta più che rispettabile ripeto ragazzi più che rispettabile quindi io sono contento di questa squadra sono veramente molto contento di questa squadra peccato peccato perché ripeto potevamo vincere avremmo meritato io lo ripeto però ragazzi va bene così nel senso si può anche perdere nel calcio no? se su quella ripartenza ce la buttano in porta siamo qua ad arrabbiarci invece siamo qua a dispiacerci perché veramente ragazzi intanto stanno facendo rivedere il non-gole della parata di Sportiello sul colpo di test di Buonaventura siamo qua a disperarci per due o tre occasioni veramente ragazzi che non so cosa sia successo ma qualcuno ce l'ha ce l'ha gridata contro detta questo ragazzi ovviamente una bella partita una grande Fiorentina ripeto che ha messo sotto l'Atalanta non voglio attaccarmi a gaspagliaccio e robe del genere credo che sia stata veramente una grande partita dove la Fiorentina ha avuto il 63% di possesso palla contro il 37 18 tiri contro 6 7 nello specchio contro uno solo dell'Atalanta quel famoso gol di Malè quindi secondo me l'Atalanta di Gasperini questa sera deve stare solo che zitta e dire ma meno male ho pareggiato perché avrei meritato di perdere e non dico altro adesso ovviamente testa all'Eck Poznam perché? perché adesso la Fiorentina continua questo trend positivo perché è un trend positivo adesso ci aspetteranno delle partite secondo me sulla carta un pochino più facili secondo pareggio consecutivo per quanto riguarda il campionato italiano però ci sono squadre che per esempio perdono vedi l'Inter vedi il Milan vedi il Napoli che fa 0-0 contro il Verona che sta lottando per non retrocedere quindi ragazzi al di là di tutto noi dobbiamo essere contenti abbiamo affrontato l'Atalanta una grande squadra con tanti talenti io l'ho detto anche ieri quindi insomma è stata veramente una bella partita dispiace dispiace perché al di là che l'avremmo meritata strameritata siamo stati anche un po' sfortunati perdonatemi siamo stati molto sfortunati voglio innanzitutto anche fare un grande in bocca al lupo a Brecalo perché è uscito purtroppo quel colpo di testa quella caduta bruttissima Brecalo secondo me era entrata con grande piglio e devo dire che stasera anche Sottile è entrata ha fatto due o tre giocate Sottile che ecco questo è Sottile che mi piacerebbe sempre vedere non il Sottile che ho visto l'ultima volta però Brecalo era veramente entrato bene secondo me ha anche scavalcato un po' le gerarchie di Vincenzo Italiano Icon è sempre poca poca verve la davanti a volte non lo so si spegge però ho visto una grande squadra ho visto una grande coralità ho visto il concetto di non voler mai perdere il pallone questo ragazzi ci deve far piacere perché qua si sta giocando a pallone qua c'è un concetto di gioco qui c'è c'è un allenatore che ha dato dei principi a questa squadra rischiando perché comunque lo sappiamo la Frentina gioca una difesa altissima perché vuole arrivare su tutte le seconde palle vuole arrivare su tutte le rispinte su tutte le palle secondi giocabili e questo ovviamente ti porta ad essere ovviamente un po' a rischio di contropiedi o comunque di attacchi degli avversari però c'è grande maturità c'è grande voglia io credo che questa squadra ci toglierà grandi soddisfazioni siamo ancora in corsa perché non perdiamo mettiamo un punticino in più non facciamo scappare quelle davanti adesso testa veramente a giovedì sera noi ci vediamo domani ragazzi in giornata caricherò il video del giorno dopo non faccio altro che tanti 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 complimenti a questa Fiorentina che mi sta veramente dando tante soddisfazioni e sono veramente orgoglioso di questa squadra di questi ragazzi sempre forza di ora ragazzi a domani